Scusate, trattieni un po' la fonda però! Sì, tu le giudizioni! Buonasera! Dai soldi! Pulano! Non lo conosco! Vabbè, non devo neanche dire che è un onore suonare qua! Sì! Vabbè, io sono di Piacenza, sono di Milano, venivo qua di Fulga, venivo qua... Vabbè, pigiando, vabbè! Andiamo a comprare i dischi qua, nel final di domenica... Andiamo a comprare i cassetti... I Battle Surfers comprare! E da quel giorno... Mi ha segnato la vita! Quindi è bellissimo! Grazie mille! Loro hanno tutti i nostri dischi, quindi se volete qualche disco ho comprato da loro! Abbiamo 3 magliette, se volete qualche cd... Avete che cd qua? Ecco, ci si scrive io, tu le dici si scrive io e... Che trova? Adesso facciamo un pezzo... Che è dentro nel disco... Che è fatto stampare apposta per il Regno Store Day la nostra etichetta che trovate lì... Che è tipo su da supportà? Che è il sogno... Va da... Che è un sogno! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.